L'IVISIONE L'IVISIONE Sei ancora tormentato dalle visioni. Sì, maestro. Sono i ricordi di un uomo morto. Un effetto collaterale della clonazione... Perché sta accadendo a me? Il processo accelerato di clonazione è ancora... ...imperfetto. I tuoi predecessori sono impazziti in pochi mesi. Per la forza... ...sapevo che eri vivo. Non sono lui. Non ci credo. Nessuno può clonare un Jedi. Ciò che tu cerchi dentro lo troverai. Tu. Portala a me. Lui verrà cercando. Che non ritorneranno. Ti abbandonerai al nato oscuro. Ho preso tutto ciò che mi appartiene! Ho preso tutto ciò che mi appartiene! Ho preso tutto ciò che mi appartiene. Ho preso tutto ciò che mi appartiene. Grazie a tutti.